Io dico agli abruzzesi, cogliamo questa occasione insieme. Quando sono arrivato al governo a giugno, ho trovato miliardi e miliardi di euro nel bilancio dello Stato, li abbiamo tagliati perché erano miliardi e miliardi di euro di spese inutili e di sprechi e li abbiamo messi su quota 100, sul reddito di cittadinanza, sull'aumento delle pensioni minime, sull'abbassamento delle tasse alle imprese che inizieranno a scendere da quest'anno. Facciamo lo stesso con l'Abruzzo, dateci l'opportunità di governarlo, dateci l'opportunità di governare questa regione e taglieremo tutti gli sprechi che non servono, come abbiamo fatto a luglio e a ottobre tagliando i vitalizi agli ex parlamentari a Roma e come abbiamo fatto con la legge di bilancio tagliando le pensioni d'oro che sono state tagliate a dicembre, dateci l'opportunità di fare questo e trasferiremo ogni euro degli sprechi e dei privilegi di questa regione verso la sanità, verso gli aiuti agli imprenditori e ai commercianti, verso gli investimenti nell'ambiente, nelle infrastrutture, ovvero verso la possibilità di creare un nuovo lavoro.